Siamo per caso o per scelta di Dio o di qualche altro potere superiore? Perché siamo su questo pianeta? Per caso o per intenzione di un potere superiore? Penso che anche il pianeta si chieda perché diavolo questi esseri umani siano venuti qui. Vedi, il sistema solare, il modo in cui è, e così anche gli altri sistemi dell'universo, le galassie, accadono tutti. Perché giungono a una certa perfezione geometrica. Geometria, nel senso. Adesso questo pianeta gira intorno al Sole, ha trovato la sua orbita perfetta, quindi va e va e va. Vedi, l'aereo avanza sospinto da motori. Viene spinto. Questo non viene spinto. Ha solo trovato una certa perfezione geometrica e va avanti. Il giorno in cui perde la sua perfezione geometrica, se perde la linea d'orbita, è andato. Quindi, in questo processo, la vita avviene su questo pianeta coinvolgendo anche questa geometria a vari livelli. Nella cultura yogica, diciamo che un essere umano, fisiologicamente e in termini di cervello, ha raggiunto il suo picco fisiologicamente. Cioè, dopo milioni di anni, non avrai un corno che ti esce dalla testa o altro. Come la coda che sparisce, qualcos'altro sparirà. Questo non può accadere. Lo diciamo a partire da un certo contesto. Oggi, i neuroscienziati moderni dicono cose simili. Dicono che la dimensione del neurone nel cervello umano non può aumentare, né il cablaggio all'interno può aumentare, perché le leggi fisiche non lo permettono. Le leggi della fisica non lo permettono. Non entrerò nei dettagli di ciò. Per dirla molto semplicemente, come lo vediamo noi, è La tua nascita qui, adesso tutta la vita su questo pianeta, è alimentata dal sole. Non è così? Sì? È l'energia del sole che sta facendo tutto questo. E anche le rivoluzioni e le rotazioni della luna hanno un'influenza su di noi. Lo stesso oceano si innalza e si abbassa con il movimento della luna. Solo perché i corpi delle nostre madri erano in sintonia con il ciclo della luna, Siamo nati e siamo qui, sì? Se questo ciclo di 28 giorni della luna non si ripetesse nel corpo di una donna, tu ed io non saremmo nati. Siccome ha raggiunto questo, diciamo che le leggi fisiche sono giunte ad un certo punto in cui la vita su questo pianeta non può evolvere ulteriormente. Puoi fare uso di ciò che hai in un modo molto migliore. Usando la stessa tecnologia abbiamo avuto un telefono stupido, poi uno smartphone, ora abbiamo un iPhone, così possiamo continuare a migliorarlo. Come lo usiamo? Ma le leggi fisiche fondamentali non permetteranno alcuna ulteriore evoluzione di questa creatura. Quindi è successo per caso? No. La teoria dell'evoluzione. Conosci Charles Darwin che ti ha fatto diventare una scimmia? Non io, lui. Se guardi la teoria dell'evoluzione che è stata proposta solo 150 anni fa, noi lo abbiamo detto migliaia di anni fa, nel senso, conosci i dieci avatara? Almeno nove li conosci, quelli che sono venuti. Qual è il primo? Mazzi avatara. Mazzi avatara significa pesce o vita acquatica. Tutta la vita su questo pianeta è iniziata sott'acqua. Qual è l'avatara successivo? Corma avatara. Anfibio come una tartaruga. Metà nell'acqua, metà sulla terra. Quello successivo è vara avatara. Un maiale o l'un cinghiale. Tra i mammiferi, un animale che è fortemente, fortemente radicato nel suo corpo è un cinghiale. Vedi, viviamo vicino alla foresta, lo vediamo. I ragazzi delle tribù possono uccidere un cervo con un bastone. Se lo colpisci con un bastone, cadrà morto. I cani locali daranno la caccia al cervo, ma un cinghiale. Prova ad ucciderlo. E vedi, non è facile ucciderlo. Lo investi con la macchina, ha la colonna rotta, continuerà ad andare. Non si fermerà perché è così radicato fisicamente. La sua vita è così fisica. La forma di vita successiva era vara avatara. Questo significa semplicemente che il creatore trova espressione prima come pesce, poi come tartaruga, poi come cinghiale. Il successivo è Narasimha, metà uomo, metà animale. Il successivo è Vamana, un nano. Il successivo è un uomo completamente cresciuto, ma emotivamente volatile, cioè Parasurama. Il successivo è un uomo pacifico, cioè Rama. Il successivo è un uomo amorevole, cioè un Krishna. Il successivo è un uomo meditativo, cioè un Buddha. Il prossimo dovrebbe essere un essere mistico, che deve ancora arrivare. Ok? Questo va alquanto in parallelo con la teoria dell'evoluzione di Darwin, sì o no? È nella stessa sequenza, esattamente nella stessa sequenza. Darwin propose la sua teoria solo 150 anni fa. Questo è stato detto tra i 12 e i 15 mila anni fa. Adioghi stesso ne parlò. Quindi, se osservi la vita, puoi vedere chiaramente, da ciò che è inanimato si è formata la vita di base, da ciò la vita si è evoluta. L'abbiamo sempre visto in questo modo. Abbiamo sempre visto che la vita si è evoluta. Costantemente, in ogni tempio in cui vai, c'è un serpente. Ci sono vari simbolismi da tutte le parti. Perché anche oggi nel tuo cervello. Una parte del tuo cervello è un cervello rettiliano. Sai, la parte centrale del tuo cervello è ancora un cervello rettiliano e ancora funziona. E abbiamo diverse pratiche nello yoga per come trascendere questo cervello rettiliano e consentire alla corteccia cerebrale di funzionare. E oggi abbiamo prove scientifiche per dimostrartelo. L'Università della California ha fatto degli studi scientifici sullo Shambhavi Mahamudra, la pratica di base che insegniamo di solito. E dicono che se pratichi Shambhavi Mahamudra per tre mesi, la rigenerazione neuronale aumenta del 241%. Un tipo di percentuale che non è mai stato registrato nella storia di qualsiasi tipo di ricerca, ok? Solo una semplice pratica per 21 minuti. Il 241% di aumento della tua funzione cerebrale e della rigenerazione neuronale. Questo significa che man mano che invecchi diventerai più intelligente. Di solito i giovani pensano che tu stia diventando stupido. Sì, il tuo cervello sta effettivamente crescendo, capisci? Sta migliorando di giorno in giorno. Ora ci sono delle prove scientifiche, lo abbiamo sempre saputo, ma oggi lo deve dire uno strumento. Se lo dice un uomo, non è vero. Se lo dice un uomo, si può dubitare, deve dirlo uno strumento. Ora gli strumenti lo dicono. Gli strumenti dicono che il tuo cervello sta effettivamente crescendo, facendo una semplice pratica di 21 minuti. Tu non credere allo strumento. Semplicemente fai la pratica per tre mesi e vedi. Vedrai quanto è chiara e quanto è brillante la tua mente, improvvisamente. Grazie. 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 Grazie.